Alimenti scaduti e altri priditracciabilità. Questo è quanto hanno rinvenuto i carabinieri del Centro Anticrimine Natura all'interno di due attività commerciali di Siculiana nell'ambito di controlli capillari che stanno interessando in queste settimane l'intera provincia del Grigento. Ad essere sequestrati nel dettaglio prodotti caseari, alimenti a base di carne e conserve. Pesanti sanzioni pecuniarie sono state combinate ai danni di un chiosco e di un furgone utilizzato come punto di ristoro e vendita. Sul furgone i carabinieri hanno rinvenuto prodotti alimentari scaduti e privi di qualsiasi tracciabilità. Al chiosco invece è stata riscontrata soltanto la presenza di alimenti non tracciati. In totale sono state combinate multe per quasi 5.000 euro, mentre almeno 10 kg di genere alimentari sono stati sequestrati. La mano più pesante è stata usata ai danni del titolare del furgone ristoro. Ad effettuare i controlli mirati al contrasto dei reati in materia agroalimentare sulla spiaggia di Siculiana sono stati i carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Grigento e quelli della locale stazione, nonché il personale dell'Aspi di Grigento. L'obiettivo ovviamente è quello di tutelare i consumatori e la loro salute. Controlli di questo tipo proseguiranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane nell'Agrigentino e sui lungomare e stabilimenti. Non è escluso che tale operazioni vengano intensificate proprio nel corso della stagione estiva. Qualche giorno fa ulteriori controlli, questa volta da parte dei NAS, erano stati eseguiti su alcuni caseifici a Santa Margherita di Belice e a Cammarata, anche in quel caso applicando sequestri e corpose sanzioni economiche.